Eccoci a Chinatown ragazzi, sono Gabri Costa, in questo videogioco del 2018 Marvel Spider-Man della PS4 dobbiamo fare subito il covo dei detenuti con nuovi obiettivi bonus, dobbiamo eseguire 10 strattoni aerei e 5 eliminazioni furtive non dobbiamo aspettare altro, diamo il via alle danze questi video io li sto facendo tutti per voi e poi dovete sempre seguirmi a ogni video che recensisco e ogni volta che lo faccio dovete iscrivervi andiamo a sconfiggere i detenuti evasi, ma facciamolo immediatamente se eliminiamo i detenuti evasi Yuri Watanabe chiamerà la polizia e li riporterà tutti in galera non mi piacciono i detenuti evasi, è vero, quando sono evasi di galera non mi piace per niente attenti cari detenuti, i poliziotti vi stanno cercando voi detenuti non rimarrete troppo a lungo evasi, ritornerete in galera, tutti quanti Spider-Man e Gabri Costa ve le suoneranno di santa ragione seconda ondata la prima ondata l'abbiamo fatta non è andata male ma è andata bene la prima ondata questa è la seconda ondata quando questi detenuti arrivano non finiscono mai terza ondata avete sentito dei detenuti evasi? presto ritornerete in cella, capite? ci sarà una cella per tutti una bella cella per voi quarta ondata il nostro amichevole Spider-Man di quartiere si diverte a fare le sue battute questo spiega perché costruiscano diverse roccaporti invece di una sola non si ridano gli uni degli altri giocano a tuo vantaggio hanno qualche dell'ultima battuta di unità e liquidati facile dirlo da lì vado quinta ondata non capisco tutta questa pretta di tornare in prigione i detenuti devono ritornare in prigione non possono rimanere evasi troppo a lungo le quattro ondate sono completate questa è la quinta ondata vediamo se arriverà l'ondata finale un sopporto di sto nemico grosso ciccione mi tocca bloccarlo in irancia ragnatele premendo ripetutamente R1 ecco l'ondata finale finalmente così se la facciamo concludiamo il video e finiamo la recensione e poi ricordatevi che come sempre ci sarà una splendida battaglia sono spettacolari queste battaglie di Spider-Man mi sono sempre piaciute nei animati, nei film, nei fumetti nei videogiochi, un po' di tutto bene, questo è l'ultimo non ne arrivano più e anche questo covo dei detenuti è completato io vi saluto ora mettete un mi piace iscrivetevi al canale Gabriele Osta a questo punto vi saluto grazie per avermi seguito